Io più che aggiungermi al dibattito direi che noi stiamo facendo il massimo per aiutare le persone nei servizi, nel mondo della scuola e sul lavoro perché la burocrazia sta avendo il sopravvento. Le persone hanno difficoltà a comprendere le tante regole che ci sono e faticano a comprendere anche come uscire dalle quarantene. Questo sovraccarico di burocrazia sta stressando moltissimo tutta l'organizzazione delle ASL e dei Dipartimenti di Salute Pubblica di Mezza Italia e credo che in questo aspetto non deve essere sottovalutato. Faccio appello davvero al Governo a prendere in serie considerazione tutto ciò che possa aiutare i pazienti, i cittadini ma anche chi lavora nella sanità perché noi dobbiamo sempre ricordarci che il nostro obiettivo nella sanità è prenderci cura delle persone, non delle carte. Grazie a tutti!